Con il museo di ideologia abbiamo visto tante cose, mi hanno colpito i colori degli animali che sono rossi, neri, verdi e gialli, per esempio, rana, luccetto, serpente, gritti, cimici, sono verdi perché vivono sotto l'erba che è verde e loro si nascondono. Le cucinelli mi piacciono tanto perché sono rosse, danno avvertimento, gli uccelli così non li mangiano. Gialli sono le pappere e mi piacciono tanto, mi piace il mondo, la pappera può vivere in acqua come nei laghi. Molto spesso andavo in un parco dove c'erano le anatre e io gli davo da mangiare, il pane. I genitori erano davanti, i pulcini dietro, era una famiglia bellissima, pensavo subito a mia madre e a mio padre, io camminavo sempre dietro di loro. Mi è venuto in mente cosa vuol dire avere una famiglia bellissima. Grazie. No. 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 Grazie a tutti.